Luca Pironi dei Canali, una bella vittoria, se non c'era il portiere penso che un forte portiere finiva più di 10 Sì, un portiere molto bravo però siamo riusciti a vincere, adesso la prossima non ha importanza perché secondo il terzo Siete già a qualificare per le semifinali Adesso c'è Luca Trozzi che lo mandiamo a quel paese Alla prossima partita Alla prossima partita Favoriti? Favoriti? Noi con l'Ariston 1 Ok, allora in bocca al lupo per proseguire